Allora, quali sono i piani per stasera? Beh, che ne dite di andare a fare un giro in città? È fantastico! È stata una festa penosa! Oh, guarda, un Waki Jack Queen! Oh, ciao! Come va? Guarda, sarà divertente! Ehi, amico, lascia che ti aiuti! Dammi la mano! Ups! Non ti ho tenuto! Scusa, amico, succede! Cosa ne pensi del mio scherzo? Che pagliaccio! Andiamocene! Ah, sì? Ve ne pentirete! È stato un bello scherzo, vero? Beh, questo è il miglior ristorante! Ha le migliori... Aragoste! Certamente! Sono deliziose! Proviamole! Bene, andiamo a casa! Ho delle cose da fare! Sì, hai ragione! Sono un po' star! Sono d'accordo! Penso che sia contagioso! Oh, no! No! Non toccarmi! Wow, che strano sogno! Aspetta, dove sono? Che sta succedendo? Cos'è questa robaccia? Sono confuso! Ehi, Sophie! Sveglia! Che stiamo facendo qui? Ah, non toccarmi! Alex, sei tu? Certo! Alzati! Non capisco cosa stia succedendo! Ehi, Tyler! Sveglia! Dai, alzati! Che c'è? Wow, dove sono? È quello che sto cercando di dirti! Cosa stiamo facendo in discarica? E dov'è il mio letto? Guarda questi stracci! Sono un disastro! Che sta succedendo? I nostri milioni? Dove sono? Non ci credo! Non ho nemmeno un centesimo! Guarda qui! Anche le mie tasche sono vuote! Stesso problema! È terribile! Siamo poveri ora! Dobbiamo fare qualcosa! Qualche idea? No! Non ho idea di cosa dovremmo fare! Ci serve un fuoco! Oh, che bel ritmo! Alex, non ora! Scusa, mi sono lasciato trasportare! Che facciamo? Sono così affamato! Andiamo, dobbiamo pensare a qualcosa! Non possiamo starcene seduti! Le bevande in questo ristorante sono veramente ottime! Sì, hai ragione! Hai visto? Che ci fanno qui quei vagabondi? Credo che ci sia un po' di puzza! Un po'? È un eufemismo! Ah, che puzza! È orribile! È insopportabile! Guardi e fate qualcosa! Ehi, che volete? Che intendi? Il solito! Siamo venuti per il pranzo, non ci riconosci? Divertente! Gran bello scherzo! Che stai facendo? Lascia il mio amico! Ehi, giù le mani! Ok, ce ne andiamo! Sarà meglio per voi! Non voglio più vedervi qui! Oh no! Il nostro ristorante preferito non ci fa entrare! Sono così affamato! Guarda! So come trovare dei soldi! Aspettate qui! Non ci metterò molto! Oh, essere poveri è orribile! Ehi! È uno di loro! Che sta facendo? Deve essere pazzo! Ehi, che succede? Beh, hai capito che sta facendo? Ancora tu! Ti avevo detto di non tornare! Me ne vado! Vattene ora! Oh, bravo! Questo è il modo di trattare questi parassiti! Aria di ricchezza! Grande idea per una start-up! Sentirsi ricchi a poco prezzo! Sbrigatevi! Non ne è rimasta molta! Quanti clienti! Venduta! Wow, sono un sacco di soldi! È incredibile! Non c'è di che! Tornate! Siamo di nuovo ricchi! Non pensavo che sarebbe stato così facile! Per fortuna che sono creativo! Prendiamo qualcosa da mangiare? Ehi, cameriere! Che volete? Ecco i soldi! Porta il piatto del giorno! Sbrigati! Ehm, se lo dite voi! Ok! Visto? Ed eravamo preoccupati! Ecco a voi! Oh, grazie! Bene, vediamo che c'è! Cosa? Tre piselli! Ci prendi in giro! Cosa vi aspettavate? Buon appetito! Perdenti! Ups! Non mi ero reso conto che fosse così costoso! Sono sorpreso di non averlo notato prima! Erano buoni! Ehi, che succede? Sophie! In realtà siamo in tre qui! Oh, cosa sono fatto per meritare questo? Mangiate! Mangiate, tesorini! Bellissimi uccelli! Prendete! È tutto per voi! Siete così affamati! Guarda! Credo che quella vecchia signora abbia del cibo! Forza, andiamo! Tyler, prendile il pane! Oh, cavolo! Cosa facciamo ora? Non lo so! Ci devo pensare! Sophie, qualche idea? Non credo! Wow! I miei occhiali si stanno appannando! Che fastidio! Pensi a ciò che penso io? Andiamo, Tyler! Uccelli, venite qui! C'è del pane fresco! Prendete, tesorini miei! Mangiate, mangiate! Delizioso! E ora? Come facciamo a recuperare tutto? È un incubo! Proprio così! Perché non ci ho pensato prima? Il vagabondo! Wow! Aspetta! Non può essere! No, è sicuramente lui! Sophie, qualcosa non va! Il senza tetto! È tutta colpa sua! Certo che lo è! Dobbiamo rimediare! Forza! Dobbiamo sistemare le cose! Attenti, per favore! Proprio qui, proprio ora! Bowling umano! Il miglior intrattenimento per bambini e adulti! Venite tutti! Non ve ne pentirete! Questo è Alex! Con lui potrete abbattere qualsiasi bersaglio! Bene! Chi sarà il primo concorrente? Ecco il nostro uomo coraggioso! Non aver paura! Forza! Tvingi più forte che puoi! Ottimo! Oh sì! Quello era uno strike! Hai vinto! La fortuna del principiante! E ora chi è il prossimo? Io posso! No, io pago di più! Voglio provare anch'io! Non siate timidi! C'è abbastanza Alex per tutti! Oh wow! Che successo! Ehi amico! Stai andando piuttosto bene! Ma c'è qualcosa di sbagliato! Seriamente? Come fai a saperlo? Ne so qualcosa! Guarda tu stesso! Oh! Wow! Impressionante! Vorrei degli addominali così! Oh! Le informazioni costano! Certo! Solo un secondo! Oh sì! Ecco qua! È abbastanza? Anche la catena e siamo vari! Nessun problema! Qualsiasi cosa! Ok! Così va molto meglio! Andiamo ad allenarci! Ripeti dopo di me! Così! Tieni il passo! Oh! È più difficile di quanto pensassi! Come fai? È facile! Dai! Prova! Coraggio! Non mollare! Lavora con le braccia! Oh! È stato un grande allenamento! Bravo! Dai! Continua! Ups! Scusa! Non fa niente! Oh! Sono così stanco! Ho una piccola cosa! Ecco qua! Non è male! E tu, Alex? Solo un secondo! Arrivo subito! Oh! Penso che quello sarà il mio cliente! Ehi, amico! Hai bisogno di aiuto? Posso darti un passaggio? Dici sul serio? Beh, non ho scelta! Per favore, siediti! Dove stiamo andando? Sempre dritto, capo! E poi ti faccio vedere! Va bene! Come dici tu? Non così in fretta! Ci sono degli alberi qui! Wow! Che giro pericoloso! No! Accosta! Fermati! Mi sta venendo il capogiro! Eccoci! Non avevi motivo di avere paura! Certo che l'avevo! Avrei potuto schiantarmi! Paga? Ecco a te! Grazie e buona giornata! Anche a te! E buona fortuna! Eccomi qui! Alex! Ehm... Cos'era quella? Oh, niente! Guardate cosa ho qui! Fantastico! Ottimo lavoro! Allora, cosa farà Sophie? Oh, è vero! Anch'io posso fare un ottimo lavoro! Cosa? Dici sul serio? Non mi credi? Guarda! Oh, sarà divertente! Ehi, questo è il mio posto! Che fai qui? Vattene! Mi hai sentito? Oh, tranquillo! Non sarei pagato comunque! Ecco a te! Ehi, è io! Esercitati perdente! Che hai detto? D'accordo! Sei morta, ragazza! Non credo proprio! Questo è il mio posto! Se non te ne vai, allora io! Tu cosa? Ok, troverò un altro posto! È quello che pensavo! Buona fortuna nella ricerca! Wow! Credo che dovremmo andare! Dove potrebbe essere? Guarda, eccolo! Sbrigatevi! Silenzio, parlerò io! Ciao! Oh, facce familiare! Ecco a te! Pensiamo che tu ne abbia bisogno! Cos'è? Denaro? Non male! Cosa volete? Perdonaci! Siamo stati cattivi con te! Va bene, siete perdonati! Restate fermi un momento! Ecco fatto! Tutto qui? Wow, davvero? Non ci posso credere! Siamo tornati! Guarda che roba! Siamo tornati nel mondo del lusso! La mia manicure! Mi sei mancata così tanto! Festeggiamo! Ti è piaciuto il nostro video sul passare dalle stelle alle stalle? Quali sono i modi divertenti che conosci per fare i soldi? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video! Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuovi video sulla vita ricca e povera su Troom Troom Select!